che incredibile Italia, li stiamo schiacciando, meritiamo questa meta Fabio ti dico che la meritiamo, Gerson, bisogna ripulire il pallone, trovare un buco da qualche parte non ci serve, non ci basta il calcio, vogliamo schiacciare in meta prendiamo questo pallone, rischiettiamo e prendiamo il pallone il pallone 11 inglese, sta schiacciando con il bianco, la mano di faccia, il costone al pallone è ancora nostro, 5 metri alla meta no, 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 no la ginocchia, tutti amici a dare e cercare l'ossigeno ormai c'è solo nitride carbonica da quelle parti è finito l'ossigeno c'è solo un po' di azoto al massimo se è acciolazione non è che il massimo c'è il massimo non è che il massimo c'è il massimo ma io posso andare a fare l'azzo è stato veramente riusciante l'ha dato a Masi è stato in radio e se la voglio vedere la zona l'ha placato perché era soprattutto senza palco non lo so se l'ha dato l'intero ma non è quello che hai idea no? perché hanno stato un ragazzo casuale che hanno Masi sono stati a 5 metri e la metà non credo che non è tutto però sono stati a 5 metri sono stati a 30 io credo che in Italia si tratta la trentesima fase del tempo l'intra ma non ci sono stati a 5 metri recommend ogni epoca di pazienza in maniatura 2 caps tutti in piedi per il barone e chissà per 5 minuti in maniatura che non è arrivato per la parte di una situazione adesso andrea in maniatura in maniatura in maniatura in maniatura in maniatura in maniatura con i record anche adesso è uscita a 5 metri in maniatura in maniatura in maniatura in maniatura in maniatura e adesso che non c'è il sogno anche se non c'è il sogno ma canna e il sogno a 5 metri e il sogno è un sogno ma c'è il autocon di視 Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.